Pesche grigliate con crema al mascarpone, miele e noci e con il vero mascarpone Taglia le pesche a metà e togli il nocciolo Ungi un pentolino, scaldalo e mettile a grigliare, eccole Metti la panna in una ciotola e montala Prendi un bel cucchiaio di mascarpone, aggiungilo alla panna e continua a mescolare Aggiungi miele, ancora un po' di panna ed ecco qua la crema Trita bene le mandorle, falle tostare e poi compone il piatto con questa crema al mascarpone pazzesca Mandorle, miele, menta, eccole qui, che libidine! Grazie a tutti!